La Corona della Fede Questa Corona è stata insegnata da Maria Santissima allo stigmatizzato Enzo Alocci, Apparizioni Regina Mondi, Porto Santo Stefano, per la salvezza e il bene di tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. Gesù Maria, vi amo. Salvate le anime e quelle consacrate. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Gesù, Maria, vi amo. Salvate le anime quelle consacrate. Lodato sempre sia il nome di Gesù, Giuseppe, Sant'Anna, San Gioacchino e Maria. Sia benedetta la sante ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Gesù, Gesù mio, perdonate le nostre colpe. Preservateci dal fuoco dell'inferno. Portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della vostra misericordia. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Corsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.